Ci sono persone che nella vita hanno bisogno di aiuto che non sanno come tirare avanti che non hanno alcuno scopo nella vita e si abbandonano dal loro lato oscuro Ce n'è uno in particolare, Giuseppe Simone TI DEVI SPAVENTARE Fa anche tu una donazione a Giuseppe Simone Col tuo contributo di 10.000 euro potrai rendere una vita migliore Datemi la vagina al profumo di albicocca o Chanel numero 5 Dategli la vagina al profumo di albicocca o Chanel numero 5 Dategli la vagina al profumo di albicocca o Chanel numero 5 Se volete donare 10.000 euro, telefonate al numero 84444444 No Per la vagina al profumo di albicocca o Chanel numero 5 Basta un sms al numero 169 69 69 69 periodico La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Forse te chiapperà un fulmine Forse te chiapperà un fulmine un pazzo scatenato non me frega niente come me tratti te non me può frega di meno de niente de quello che c'hai pensiero dentro la testa tua te metto un te un palo a testa di giù e te ce lego pure sta zitto no non ce sto zitto